Sei pronto Daniele? Molto volentieri, molto volentieri. Allora iniziamo subito a parlare di quello che è stato una delle notizie che almeno per noi in Italia è stata sicuramente una delle più seguite nell'ultima, mi vorrebbe da dire, settimana. Io personalmente sono stato contattato abbastanza frequentemente da tante persone in merito all'uscita di questi BTP valore. Ora, spieghiamo un attimino che cosa sono i BTP valore, posto che molto probabilmente la grande parte delle persone che ci ascolteranno sanno che cos'è un BTP, ma giustamente andiamo a spiegarlo. Qualche dettaglio tecnico e qualche considerazione personale e poi avremo un paio di battute con Pasquale. Allora, per quanto riguarda i dati tecnici del BTP valore, stiamo parlando ovviamente di un titolo di Stato, quindi lo Stato si va ad indebitare per andare a finanziarsi e noi andiamo a, se vogliamo sottoscrivere questo prodotto, a dare dei soldi all'Italia, allo Stato italiano, con la promessa da parte dello Stato di ridarci questi soldi con un determinato rendimento che adesso andremo a vedere. Quindi quando noi andiamo a parlare prima di tutto di titoli di Stato stiamo parlando di un asset obbligazionario, a differenza degli asset obbligazionari che possono essere ad esempio i fondi obbligazionari, gli ETF obbligazionari, qui noi abbiamo una singola obbligazione che se portata a scadezza ci dà un determinato rendimento garantito. L'importante è che quando si parla di rendimento garantito, stiamo sempre parlando di rendimento garantito, fin tanto che l'emittente, in questo caso lo Stato italiano, non rischi di defaultare, cioè è garantito fin tanto che ci paga lo Stato italiano. Quindi bisogna andare prima di tutto a considerare quella che è la solidità finanziaria di uno Stato, che ovviamente per forza di cose ha un valore differente rispetto magari ad un'obbligazione di una società e per questo che viene detto a rischio tendenzialmente quasi pari a zero. Tornato al BTP valore, data di uscita è uscito praticamente ieri, da ieri 2 ottobre è acquistabile fino al 6 ottobre, sarà possibile acquistarlo dopo di che entrerà a mercato e quindi ci sarà tutta la contrattazione dei mercati. Ha una durata pari a 5 anni, quindi lo acquistiamo oggi e lo andremo a ripendere nel 2023-2027, e ha delle cedole trimestrali. La cosa interessante è stato che venerdì è stato dichiarato che le cedole trimestrali saranno divise in i primi tre anni e gli ultimi due anni. Nei primi tre anni le cedole che ci verranno date divise per trimestre saranno pari al 4,10%, mentre poi andranno ad aumentare negli ultimi due anni del 4,50%, per un rendimento lordo praticamente pari al 4,39%, perché dobbiamo andare a considerare che qualora dovessimo comprarli in questi giorni e tenerli fino a scadezza, che tradotto vuol dire che li teniamo fino alla loro maturazione, ci daranno un 0,50% in più di fedeltà. Quindi abbiamo uno strumento garantito che a seguito di 5 anni ci darà un 4,39% in lotto. Importante prima che facciamo le nostre considerazioni da ricordare che per quanto riguarda i BTP, i titoli di Stato in generale, questi usufruiscono di una tassazione agevolata da parte del legislatore, quindi anziché prendere il classico 26% sulle plusvalenze, il rendimento, in questo caso del 4,39%, dovrà essere tassato al 12,5%, minusvalenze a parte, quelle non andiamo a considerarle, perché altrimenti ci andiamo a complicare la vita. Ultimo dettaglio dal punto di vista tecnico, l'8 minimo, come la tradizione dei titoli di Stato, 1000 euro. Credo più o meno di aver detto tutto per quanto riguarda tutte le note tecniche da conoscere riguardo allo strumento in sé per sé. Che poi, per quello che è la notizia, che comunque diceva anche il MEF, questi rendimenti sono rendimenti al momento della collocazione che potrebbero variare solo al rialzo e non al ribasso in base a quello che poi sono i calcoli che fa il MEF. Una volta che l'asta è stata completata. Questi sono i rendimenti minimi. Si spera per chi ci investe che questo valga la pena farlo. Però, adesso voglio fare un po' il bassi al contrario su queste cose. Ma ne vale veramente la pena investire in BTP in Italia quando l'Italia è un passo dal passare dall'investment grade, se venisse declassata, ai junk bond. In quel caso i BTP diventerebbero un po', non dico carta straccia, perché per chi li portasse a scadenza comunque incasserebbero i soldi, però a quel punto ci potrebbero essere delle obbligazioni messe sul mercato da parte del governo italiano che sono molto più redditizie anche se più rischiose. Allora, va detta una cosa. Si è fatto tanto rumore qualche mese fa riguardo alla possibilità dell'Italia di entrare dagli stati junk bond e de facto nell'ultima valutazione che c'è stata l'Italia non è stata dichiarata come stato spazzatura. In realtà non sarebbe non corretto. Spieghiamo come funziona. Praticamente per dare l'affidabilità creditizia bisogna dare un certo rating di un determinato stato, di un determinato emittente, anche una singola società. È molto più probabile che se Apple fa un'obbligazione il suo grado di affidabilità creditizia è molto più alto rispetto alla start-up appena nata per tutta una serie di ragioni. Stessa cosa funziona per gli stati. Il classico spread è indice proprio di quello. La differenza che c'è ad esempio tra la Germania e l'Italia deriva dai rendimenti. La Germania e l'Italia deriva dal fatto che si presume che la Germania abbia un'affidabilità creditizia molto più alta rispetto a quella dell'Italia. Qual è il problema? Nel momento in cui l'Italia dovesse diventare, dovesse declassare ancora di più rispetto ai livelli attuali, per attirare nuovi investitori l'Italia dovrà necessariamente emettere delle obbligazioni con più alti rendimenti che vengono garantiti perché altrimenti a parità di rendimento io vado a prendermi lo stato che mi dà una maggior sicurezza o in generale un emittente. Possibilità che c'è, d'altra parte l'unica cosa che possiamo fare ad oggi è considerare quello che è il rendimento per oggi. Sapere che nell'ultima valutazione che c'è stata da parte delle agenzie di rating non c'è stato il declassamento a valutazione quindi per cui sì, a Jack Bond per cui in realtà c'è il refresh della medaglia. D'altra parte io chiedo rispetto a quello che stiamo assistendo adesso e non sto consegnando ovviamente di acquistare questo titolo di stato anzi poi lo vediamo quanto questo 4% 4,8% merita nel nostro portafoglio rispetto alla possibilità che l'Italia venga declassata per quanto tempo noi possiamo aspettarci che i rendimenti obbligazionari saranno così alti rispetto a questa è secondo me la grande differenza che dovremmo prendere in considerazione. Perché ti faccio anche questa domanda per un semplice motivo al momento ci sono alcuni conti deposito ad esempio che danno un 4% lordo con vincolo ad esempio di un anno che con vincolo di due anni arrivano al 4,5% al 5% per cui un investitore retail come noi piccolino che non è un istituzionale e che quindi non ha necessità di parcheggiare grossi somme magari potrebbe trovare più convenienti invece di andare su un BTP valore di questa emissione andare ad esempio su un conto deposito vincolato a 24 mesi. Sì assolutamente è un'altra opzione ricordo sempre che per quanto riguarda i conti deposito c'è il rischio dell'emittente che è diverso in quel caso se la banca defaulta ci sono altri tipi di problemi quindi lo Stato dà più garanzie rispetto all'istituzione bancaria poi una persona può dire ovviamente ma la banca non fallisce ci mancherebbe altro però il rischio concreto un'altra persona potrebbe dirgli che non fallisce sono proprio dei ragionamenti differenti non dimentichiamo che il BTP valore che adesso fa tanto clamore in realtà è uno degli strumenti che sono stati appena emessi in realtà giocando sulle scadenze ci sono molti BTP già emessi da tempo infatti è quello su cui volevo porre l'accento che hanno già un rendimento anche abbastanza importante che varia dal 4% per le brevi scadenze anche arrivati sono arrivati ai livelli attuali al 5% 5,5% per le lunghe scadenze dipende quello che ci si deve fare con questo capitale il conto deposito è sicuramente un'opzione valutabile d'altra parte mi chiedo se qualora noi avessimo un orizzonte più ampio per quale motivo andarci a prendere degli strumenti che hanno questo tipo di rendimenti quando si potrebbe aspirare a dei titoli sempre garantiti dallo Stato italiano o anche dagli altri Stati perché non dimentichiamoci che allo stato attuale delle cose è vero che l'Italia è uno dei paesi in Unione Europea perlomeno che paga di più ma ci sono anche altri Stati con un'affidabilità di credizia pari che comunque hanno dei rendimenti di tutto rispetto penso alla città da Romania che per quanto più bassa affidabilità di credizia più bassa di Italia comunque offre dei signori rendimenti prende in considerazione tutte quante le opzioni ecco il grande rischio che c'è quando escono questi prodotti è che vengono ovviamente molto pubblicizzati quando non si va a vedere che dietro l'angolo ci possono essere delle soluzioni più adatte magari si prende un BTP 2037 che mi rende il 5 anche in ottica speculativa dipende quello che ci dobbiamo fare come sempre poi se poi lo approfondiamo ok volevo anche menzionare adesso rilascio di nuovo l'ISIN del BTP valore che è appena uscito che per quanto riguarda questa emissione ma in generale un po' per tutte le emissioni nuove vengono quotate alla pari per cui si compra per forza 100 quindi non non c'è una delle variazioni e a parte i costi del broker che si utilizza per l'acquisto è a commissioni 0 per quanto riguarda l'acquisto del BTP e ovviamente sì come dicevi tu ci sono diverse variabili date in considerazione però io portavo avanti appunto il contesto del contodeposito perché il contodeposito per come le banche sono teoricamente ci sarebbe il fondo di sicurezza interbancaria che coprirebbe fino a 100 mila euro e per un piccolo investitore che ci mette fino a 10 mila euro che solitamente magari è un po' la somma che la gente pensa di metterci in strumenti simili potrebbe essere più conveniente però come dicevi tu ci sono tantissimi altri strumenti di altre nazioni potrebbero essere CETF che danno magari una maggiore sicurezza in questo caso perché nel caso in cui ad esempio l'Italia venga declassata e uscisse dall'investment grade comunque verrebbe rimpiazzata da altri diciamo da altre obbligazioni poi ovviamente cambia il contesto perché lì entra il contesto della duration e di tutto quello che appunto l'ETF lavora in maniera diversa rispetto a un'obbligazione singola però potrebbe essere anche questa un'alternativa sì assolutamente non nego io allora da un punto di vista personale ti devo dire la verità con il fatto che le singole obbligazioni rischiamo di andare lunghi quindi magari perché poi mi piace parlare dell'argomento l'assetto obbligazionale ha finalmente ritrovato un senso all'interno dei portafogli l'importante secondo me è comprendere se questi possano essere sensati sia in ottica di compro e tengo fino alla scadenza in questo caso compro a 100 me lo rivendo tra 5 anni scusa mi scade tra 5 anni sia in ottica speculativa perché non dimentichiamoci che la nostra economia non è fatta per reggere dei tassi di interesse così alti e nel momento in cui si hanno dei titoli di Stato che hanno rendono diciamo molto più rispetto a quanto fossimo abituati questo potrebbe essere anche in ottica speculativa sicuramente ha una sua validità ovviamente non sono consigli finanziari ognuno deve guardare il suo portafoglio ci mancherebbe altro dipende da quello che ci si deve andare a fare però comunque è sicuramente un ottimo strumento da poter considerare ok chiarissimo prima di passare a un'analisi un po' più macroeconomica quella di cui parlavamo prima di entrare in live c'era un commento di Laul che magari tu con la tua esperienza da consulente finanziario indipendente puoi andare a rispondere è diviso in due parti per un investitore che fa un pacco di lunga durata 15-20 anni cosa sarebbe meglio un etf obbligazionario aggregate o un singolo bond l'obiettivo è quello di creare un all season al momento sono interamente azionario con svwda allora ovviamente la risposta dipende bisogna un attimo andare a distinguere bisogna vedere principalmente quella che è l'approccio cioè dando per scontato ovviamente che bisognerebbe guardare un'analisi più approfondita della persona ci mancherebbe altro però in linea generale la grande distinzione è sull'approccio che si vuole avere come attività finanziaria cioè quanto vogliamo essere attivi quanto vogliamo essere passivi da un punto di vista veramente finanziario perché se noi compriamo un etf stiamo de facto demandando la nostra attività la nostra scelta se questo è un buon momento per investire oppure è un buon momento per vendere all'etf o al fondo ovviamente cioè se io mi aspetto che non voglio decidere se vendere oppure comprare quell'obbligazione demando tutto quanto a un gestore terzo che possa essere anche un macchinario che di default magari va a vendere delle obbligazioni con tre mesi di scadenza a tre mesi alla scadenza esistono etf esistono fondi che fanno questa cosa d'altra parte comprando un'obbligazione abbiamo un vantaggio che so perfettamente quanto mi entrerà a fine della scadenza dipendentemente dal momento in cui si acquista e un altro vantaggio un vantaggio barra svantaggio posso decidere io se venderlo oppure no grosso problema che c'è stato negli etf obbligazionari è stato vedere come questi sono molto qualati in un contesto in cui se si fosse mantenuto fino alla scadenza quegli determinati strumenti sottostanti non si avrebbero avuto queste grandi discese il problema quale è stato che per logica interna dell'etf quei sottostanti dovevano essere venduti necessariamente è un pro o un contro dipende da quello che vuole essere l'approccio ok chiarissimo spero che Raul abbia avuto la sua risposta grazie a tutti Grazie.